segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te prima di tutto mi lasci dire deo grazias leggendo il virgolettato che riguarda il nostro presidente draghi e ci arriviamo poi parliamo proprio finalmente e qui mi fermo e dopodiché sul campo allora l'esercito russo è sicuramente logoro lo era fin dai primi giorni per tutti degli errori che si sono poi susseguiti e moltiplicati e quindi oggi sicuramente hanno consumato molto armamento molte energie molti mezzi molto morale sicuramente c'è anche quello perché morale è un moltiplicatore di forza e l'ucrani lo sanno bene sono in difficoltà di organici perché sembra che qualcuno diceva che dovranno chiamare i riservisti anche se così non fosse comunque anche se non li chiamano certamente non c'è ricambio ecco il personale deve essere avvicendato ci ha riposato addestrato e poi tornare in campo di nuovo quindi questo è un fatto certo su questo non ci sarebbero dubbi dall'altra parte invece da parte ucraina diciamo sicuramente anche da parte loro c'è un logoramento però c'è un rifornimento continuo di armi di armi e anche immagino di altro no io beh certo anche di persone io non non escludo a di uomini anche non escludo che sul territorio ucraino oltre alle legioni straniere eccetera ci siano anche delle forze speciali di altri paesi non lo escludo ma non lo esclude per esperienza di cose di questo tipo per per sentore per istinto ecco diciamo così ovviamente non ho la prova di quello che dico però così potrebbe essere soprattutto quelle nelle nazioni molto agguerrite diciamo molto per entori e inglesi americani e però se gli inglesi americani stanno lì e poi li prendono che succede succederà qualche un'altra guerra di informazioni non se ne verrà mai a capo perché tanto strano istruttori che stavano da prima giusto Peter c'è la giallo leggo il titolo no contractor che scrivo ma sono istruttori che avevamo mandato sei anni fa qual è il problema Wagner e chi lo conosce Wagner io me lo conosco Wagner esattamente certo quindi diciamo anche questo è un motivo per cui probabilmente oggi lanciare una grande iniziativa di pace strutturata forse accoglierebbe anche il favore di chi sta combattendo da più di due mesi e che forse è stanco ma non è questo il motivo per cui deve finire ce ne sono tanti altri molto più importanti e quindi che ci sono stati anche per la prima volta che ci sono stati